Abbiamo con noi Monsignor Mario Toso che è segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Monsignor Toso, il cuore della Chiesa batte per una umanizzazione della finanza e lo dimostra anche il documento proprio del Pontificio Consiglio che incentiva la riforma appunto della finanza e dei mercati finanziari globali. In effetti è così. La Chiesa si interessa della finanza per risemantizzarla, per ridarle il suo significato, cioè riportarla alla sua vocazione originaria che è quello di essere al servizio dell'economia reale e dello sviluppo sostenibile di tutti, specialmente dei più deboli. In questo compito la Chiesa indica il fatto che la finanza deve vivere eticamente e deve viverlo non con un atteggiamento per cui si pensa all'etico come qualcosa che viene prima o dopo del suo esercizio ma come un qualcosa che è intrinseco alla sua stessa attività perché è attività dall'uomo e dell'uomo e pertanto deve essere attività per l'uomo, per l'economia reale, per lo sviluppo sostenibile di tutti. Il profitto fine a se stesso, dice il Pontefice nella Caritas in Veritate, genera poi alla fine povertà e miseria perché è sregolato e non ha come ultimo fine la persona umana. Siamo passati dall'abbondanza a rischiare di non avere il necessario. Come l'uomo può trovare una bussola e ritrovare se stesso nell'economia? Ma che si sia finita una grande crisi, una crisi che ha conseguenze negative soprattutto per i più deboli lo dimostra l'attuale crisi che è iniziata nel 2007, non è ancora ultimata e anzi ha nuove manifestazioni soprattutto nella zona dell'euro. Come uscire da questo? Uscire innanzitutto facendo sì che la finanza stessa faccia il suo dovere e può però fare il suo dovere se è adeguatamente accompagnata, orientata dall'autorità pubblica. Quindi occorre che la finanza riconosca di non essere autoreferenziale, cioè slegata dal contesto politico e sociale e quindi accetti di essere orientata alla realizzazione del bene comune. Se si ritorna all'economia reale, a nostro avviso va posto al centro la famiglia, l'impresa familiare e anche la natalità perché un paese senza natalità, senza famiglie e senza imprese familiari è difficile che possa avere un futuro. Credo proprio di sì e per questo la stessa finanza con le sue varie istituzioni, le varie imprese intermediarie deve attrezzarsi a svolgere un'attività di credito, oltre che appunto di recupero dei soldi per offrire credito che abbia una particolare sensibilità soprattutto nei confronti dei più deboli, di coloro che debbono essere aiutati. Come è tipico di una certa finanza di ispirazione cristiana che ha dato luogo anche all'istituzione di banche etiche. Oggi si vede la necessità che le banche o i bancari siano sensibili a determinate situazioni. Penso in modo particolare ai giovani disoccupati che sono una certa percentuale anche in Italia, una percentuale preoccupante. Sarebbe appunto opportuno che le banche o i bancari, i top manager assieme ad altri soggetti della società guardassero a questa necessità, magari costituendo dei fondi ad hoc per facilitare il credito in modo da favorire la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Un'ultimissima domanda. Il Papa proprio al corpo diplomatico ha annunciato e ha sottolineato i tanti talenti dell'Italia proprio espressamente citando i rapporti esemplari Stato-Chiesa. Ecco pertanto questo nostro paese insieme a difficoltà e problemi ha anche dei preziosi diamanti da poter giocare. Ecco vogliamo dire anche una parola di speranza per questo nostro paese per il 2012. Nell'uomo, nelle persone c'è oltre che certe manifestazioni diremmo negative c'è anche il bene, soprattutto il bene come spinta ad andare avanti, a guardare verso il futuro. È su questo che bisogna far leva per vincere quella specie di entropia, cioè di non senso, a cui si dedica la finanza e dedicandosi a questo finisce per distruggere se stessa ed essere negativa per l'economia reale. Grazie, ringraziamo tantissimo Monsignor Mario Toso, il segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Grazie tanto. Grazie a tutti.